Perché ci colleghiamo subito con Lampedusa, lo accennavo prima, ma te ho parlato, perché sembra proprio... Ecco, lo vediamo, sta arrivando un barcone, l'ennesimo carico di immigrati. Esattamente, vedete, esattamente, è un barcone con 86 persone a bordo, ci sono anche 34 donne. Questo barcone è stato soccorso da quel mezzo della Capitaneria di Porto, un 300, è stato soccorso, dicevo, a 80 miglia a sud di Lampedusa. Questo è il primo degli arrivi in programma per questa sera, perché ce ne sarà uno che arriverà intorno a mezzanotte, e si tratta di un'operazione invece quella che è stata compiuta sia dalla Capitaneria che dalla Marina Militare, e dovrebbe avere a bordo, anzi, a bordo, scusatemi, 28 persone. Ora, queste persone che sono di origine subsariana, secondo, diciamo, un primo accertamento fatto dall'equipaggio a bordo della vedetta, della Capitaneria, sono tutte persone di origine subsariana che si sarebbero imbarcati su un gommone in Libia e poi sono stati avvistati e soccorsi, ripeto, a sud di Lampedusa a circa 80 miglia, con un'operazione che è cominciata oggi, noi abbiamo visto le motovedette uscire dal porto, oggi intorno a, praticamente poco dopo mezzogiorno, tra mezzogiorno e trenta e luna. Però io vorrei farvi vedere un'altra cosa, perché se c'è una realtà che è questa di... Dimmi, dimmi, dimmi. Posso solo chiederti, semplicemente, proprio su queste persone che stanno arrivando, se hai notizie sul loro stato di salute, insomma, come stanno? Alcuni li vediamo con i nostri occhi, però ecco, hai qualche dettaglio? Come stanno queste persone? Guarda, fino adesso, fortunatamente, quasi tutti sono arrivati in buone condizioni di salute. E purtroppo, devo dire che negli sbarchi di ieri, ci sono stati dei minori che hanno riportato ustioni da idrocarburi, quattro minori che avevano ustioni da idrocarburi, sono un tipo di ustioni che si creano, perché nel momento in cui fanno carburante, queste persone vengono, diciamo, spruzzate dalla nafta, e poi la nafta e il sole creano questo tipo di ustioni. Comunque, sono stati subito portati qui al centro di Lampedusa, e diciamo, ora stanno sicuramente meglio. Questa mattina sono anche arrivate due persone, due donne incinte, una era oltre l'ottavo mese. Comunque, hanno passato il controllo medico e tutte e due sono in buona salute. Fortunatamente, perché ricordiamolo, questo è un viaggio molto lungo e molto faticoso, e purtroppo dobbiamo dire che noi facciamo questo conteggio di persone, ma noi non sapremo mai quante persone non ce l'hanno fatta ad attraversare il Mediterraneo. Comunque, se mi permetti, ti volevo far vedere un'altra cosa, un'altra forma di Lampedusa, perché mentre ci sta... Io però chiederei di restare stretti, se è possibile, Matteo. Questa realtà, dimmi. Mentre tu parli, restiamo stretti però inquadrando il... Sì, ok, restiamo stretti, va bene, va bene. Grazie, prego, a te. Va bene, allora ti descrivo... Allora, vedete, la motovoletta si è affiancata e sotto quei gazebo ora cominciano a scendere i profughi. Sono accolti dal personale sanitario e dai vari volontari dell'associazione umanitaria, dell'UNHCR, Save the Children, solo per fare due nomi. Non so se riuscite a vedere a destra della motovoletta, c'è già un'ambulanza che è pronta in casa appunto, ci fossero persone che hanno bisogno di un aiuto. E queste persone adesso saranno tutte fatte salire su un pullman, che in questo caso è fuori dall'inquadratura, perché oltre al molo, quello lì è il molo militare, dove regolarmente vengono fatti sbarcare questi profughi, e dove, vorrei ricordare, è sbarcato anche il Papa lunedì scorso. E queste persone poi da questo molo verranno portate nel centro. Centro di accoglienza che ha superato il suo reale livello di accoglienza, cioè ci sono più persone di quanta è la sua capienza. La sua capienza è intorno a 300 persone, in questo momento ci sono circa 420 persone, se non vale raro. Più bisogna aggiungere questi nuovi arrivi. Oggi dal centro sono stati spostati in altri centri in Italia e altre 140 persone. E questo è molto importante che ci sia un flusso sia in entrata che in uscita, per evitare appunto che ci sia un'iper-saturazione del centro di accoglienza. Comunque vedete, non so se riuscite a vedere, la forma particolare di questo mezzo della Capitaneria Porta, diciamo, per descriverlo rudimentalmente si potrebbe dire che è un grande gommone, ha quei grossi tubolari, ed è un mezzo che è stato proprio pensato... Sì, scusami. Sì, sì, no, vediamo benissimo e ascoltiamo la tua descrizione. Ah, scusate. È un mezzo che è stato proprio studiato per le operazioni di SAR, che è una sigla che in inglese vuol dire Search and Rescue, cioè è un mezzo pensato proprio per poter abbordare altri mezzi senza, diciamo, danneggiarsi, perché chiaramente i tubolari, pur essendo origini, insomma, hanno una certa elasticità e soprattutto è un mezzo inaffondabile e ha una grande capienza, cioè può portare veramente tante persone e credo che lo vediate adesso dalle immagini, perché vedete come sono assiepati fra la zona della cabina e appunto la zona, e il bordo esterno della nave, della nave di questo battello, questi SAR 300. E questi sono, qui ce ne stanno quattro, ora non so se nel porto ancora ne manca uno, che è appunto quello che rientrerà più tardi, intorno a mezzanotte, perché l'attività qui è cominciata questa mattina, a mezzogiorno c'è stato il primo arrivo. Vediamo le prime persone che scendono, vero? E non si fermerà fino a mezzanotte, in questo momento... Sì, che scendono, esattamente, si scendono. Ora, da qui mi sembra di dire che appunto, come dicevi tu, sono tutti sulle loro gambe e questo è sicuramente un buon segno, una cosa che, insomma, ci fa molto piacere, che non ci sia bisogno di un intervento dei sanitari, e speriamo che sia così fino alla fine dello sbarco. Comunque, stavo dicendo prima che, mentre l'altra moduletta sta rientrando, sempre oggi pomeriggio si sono alzati in volo i mezzi aerei della capitaneria, perché è cominciata una perlustrazione nel tratto di mare, fra qui e, diciamo, le acque territoriali libiche, perché si teme che ci possano essere altri, come si dicono, tecnicamente, target. Il target è praticamente una segnalazione che deve essere visualizzata, controllata, di modo che poi possa veramente attivarsi la macchina dei soccorsi. Ecco, vedete, sì, stanno, sì, sto vedendo che stanno continuando a scendere, però lo fanno con una certa calma, perché bisogna sempre averci cautela. Vedete, non bisogna mai dimenticare che queste persone sono persone che hanno passato molte ore sui battelli, e non sono battelli molto comodi, per cui, chiaramente, diciamo, sono anch'ilosati, anche se sono in buone condizioni. Insomma, bisogna avere molta cautela in questo momento, perché sarebbe veramente spiacevole che nell'ultimo momento si facesse un passo falso che potrebbe creare l'irani, fare male a queste persone, ricordiamolo. E questo, senz'altro, denota da una parte una spossatezza che è ovvia per queste persone che sono andate per amare in quelle condizioni dall'altra, anche però che, insomma, la situazione viene tenuta sotto controllo e non ci sono scene di panico. Matteo, ancora un minuto e poi ci riprendiamo. Dimmi. Ancora un minuto, sì, mi stavi dicendo, però restiamo sempre in primo piano su queste immagini, mi stavi dicendo prima che ti ho interrotto di qualcosa molto importante. Sì, che hai fatto una giusta notazione, perché l'ordine non è casuale, perché questa qui, appunto, è una pratica che ormai è in cui i marinai della Capitania di Porto, ma anche della Finanza, dei Carabinieri, sono perfettamente erodati, per cui c'è una gestione, sì, può sembrare lenta, ma è meglio forse fare questi lavori con calma e assicurandosi che vada tutto a bionfina, piuttosto che, diciamo, cercare di avere un'inutile fretta, direi, perché tanto ormai sono arrivati. Bene, vi restituisco la linea e vi ricordo, quello che vi ho detto prima, che si attende un alto sbarco intorno a mezzanotte. Lo seguiremo, grazie Matteo Parlato.